Una bara attorniata di fiori blu, ricoperta dalla forza espressiva di quei colori accesi tratto distintivo di una lunga e fervente vita artistica. Sabato pomeriggio il Duomo di Pesaro ha tributato l'ultimo saluto ad Oscar Piattella, l'artista della luce e della materia, scomparso giovedì all'età di 90 anni. Piattella da tempo viveva e lavorava a Cantiano, ma aveva fatto esplicita richiesta che il suo funerale fosse a Pesaro, così come la sepoltura nel cimitero centrale. Don Stefano Brizzi ha ufficiato una cerimonia intima alla presenza dei parenti di Piattella ed istituzioni, mondo della cultura, dell'arte e dell'imprenditoria, che hanno intrecciato 65 anni di incessante produzione artistica. Da Pesaro a Fano, da Cagli e Cantiano, fino ai tanti rapporti intrecciati con la vicina Umbria. Presente anche lo scultore Giuliano Vangi, che con Piattella ha condiviso fino a pochi giorni fa una pluridecennale stagione culturale d'oro del nostro territorio. Dopo una vita trascorsa a immaginare il mondo con la sua personale visione artistica, Oscar ora guarderà cosa c'è dall'altra parte, lasciando una terra straordinariamente piena di inestimabili tracce del suo passaggio.